...forte, forte, puoi giocare forte, 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 mi ama forte, 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 puoi farlo piano, 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 è fatto così. Ecco cosa fa, mi prepara un'altra tazza di caffè, puoi ricopre con qualcosa l'avaggio, puoi ricavere come voglio io, l'amore mio. Poi domani odio tutto, anche il bene che dà, e mi sento come fossi a mani vuote, e vi giuro che nessuno può capire com'è, quando lui mi tiene stretta, forte, forte, sì. ...forte, forte, 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 mi bacia forte, 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 mi tiene forte, 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 mi prende forte, 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 poi gioca forte, 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 mi ama forte, 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 Mi piace forte, 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 forte. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Brava Raffaella, brava brava. Grazie, grazie, grazie. Brava. Sei molto giustente. Bene, purtroppo dobbiamo chiudere, ormai è tardissimo, chissà che cosa dirà Procacci il nostro regista, però credo che questa sia stata una delle puntate più divertenti che abbiamo fatto. Adesso io vi sono molto gratuito, gratuito a Raffaella. Grazie a Paolo Villaggio, vi auguro fortuna e ci vedremo la prossima stagione. So che ognuno di voi probabilmente ha in preparazione un programma, un qualcosa in televisione, quindi tutti e tre probabilmente saremo ancora la rivalda. Intanto vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci a tutti, buonasera. Grazie.